bentornati in questo nuovo video di gta 5 online siete in compagnia di tony amsic 17 oggi raga andiamo a fare gara parkour mamma mia raga penso che è la prima che porto nel canale questa gara parkour udite udite l'ho creata io la mia prima gara parkour che che ho creato raga veramente adesso mi sono messo anche a creare gare parkour adesso raga sul canale porterò anche delle belle gare porterò comunque questa gara l'ho creata per park moz per il suino che porterà anche lui sul suo canale questa gara parkour come vi ho detto l'ho creata io con l'aiuto di lorenzo mileto il magnifico lorenzo mileto che mi ha dato una mano lo ringrazio tantissimo lore anzi raga passate che dal suo canale che si chiama lore con la tre trattino basso scusate flash e niente glielo ho fatta provare a lorenzo gli ho detto l'ora e visto che è la mia prima gara che creo mi mi dai un consiglio un qualcosa aiutami un pochettino e mi ha detto mi ha fatto i complimenti ma detto che veramente bella e mi ha dato una mano a a finirla di creare ecco raga poi adesso vi faccio vedere dove da che punto ha incominciato lorenzo a creare praticamente no 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 aspettate 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 allora 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 ripartiamo ripartiamo da qua e raga ripartiamo da qua bene bene comunque vi stavo dicendo vi faccio vedere poi da che punto lorenzo è andato avanti con con la gara parkour eh allora via 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 comunque nell'attività come c'è non ho invitato tanta gente raga perché purtroppo eh poi incominciano a a spingere mentre che fai la gara allora via 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 sali 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 torni sali comunque questa qui è una sportiva classica se non sbaglio è la jb 700 vabbè adesso non mi ricordo bene comunque raga ditemi se vi piace questa mia prima gara che ho creato veramente eh ditemelo o fermo ecco vedi questo qua l'ha messo lorenzo questo pezzo ha aggiunto qualcosina ha cercato un attimino di darmi una mano comunque ti comunque a me piace devo dire la verità la mia prima gara parkour molto carina molto colorata vicino alle palme molto bella molto bella sì sì allora dai raga su adesso andiamo a cercare di fare bene sta gara parkour comunque in sessione c'è Ale Brambi 45 che saluto e ringrazio tantissimo per essere entrato nell'attività poi abbiamo Rudy e poi abbiamo Cagnolino 04 Carletto ok via via giriamo bene di qua giriamo ok vai 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 togli prendiamo il check grandissimo ok andiamo 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 qua non ti fermare ok no Rudy aspetta che ti dà una spinta perché qua devi scendere giù aspetta aspetta no Rudy ti dava una spinta vabbè allora allora vediamo un po' di prendere subito il check sì grande Tony guardate che figo questo pezzo eh raga bellissimo ok giriamoci bene diamo una bella sgommatina ok raga vediamo aspettiamo che passa il cartellone ok qua c'è un pezzo selvatico oh benissimo dai dai Tony che stiamo in seconda posizione che è davanti a me non si sa Rudy ma Rudy è dietro di me ah no ecco sono primo sono primo va bene va bene ok andiamo avanti così perfetto saliamo su di qua qua c'è un altro pezzo che ha messo l'ore grande Lorenzo ok via via ok andiamo 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 guardate eh ah raga guardate cosa ho messo qua eh che figo il giro della morte e l'altro pezzo più avanti ho fatto no no Toy mi sei girata la macchina non ho preso con tanta velocità no no raga non ci credo sono esploso ok raga siamo di nuovo dal giro della morte speriamo di di non sbagliarlo eh non l'ho preso con tanta velocità ecco perché mi ha fatto quel lavoro lì ok frena ok raga andiamo a farci sto bello pezzettino qua ok raga ce l'abbiamo fatta eh no non esplodere però per favore grandissimi ce l'abbiamo fatta ok al secondo tentativo eh ce l'ho fatta ok via 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 andiamo a prendere l'altro check veloce che rude è già avanti di brutto dobbiamo cercare di recuperarlo se ce la facciamo andiamo andiamo veloce Tony andiamo andiamo veloce oh vigo come parte sul prato raga fortissimo ok andiamo 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 ok rude comunque mi sembra che qua avanti eh qualcuno esploso è rude ok ok Tony andiamo 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 perfetto grande Tony vai 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 ok passiamo di qua passiamo dal gommone no il palo il paretto ok tanto la stra uh raga questo qua è veramente incredibile questo pezzo bisogna allora cercare di mettiamoci un po' più dritti ok ancora un po' eh non so se farla a scatti può andare proprio veloce mi mi scivola la macchina scivola la macchina raga ok raga l'ho fatta a scattini eh volevo farla di di prepotenza come dire veloce aspetta 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 che l'ho presa male no 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 Tony cos'è combinato allora con calma come l'abbiamo fatto prima vediamo a scattini a scattini a scattini ok grande andiamo dai passiamo di nuovo dal punto di prima ragazzi io lo cioè l'ho provata prima cioè perché giustamente vabbè l'ho creata io quindi l'ho provata no quando registro non capisco come mai mi figlia un po' di di agitazione e vabbè sarà anche normale credo no comunque allora passiamo dalle porte adesso poi raga vi faccio vedere il pezzo dove ha giunto Lorenzo io qua la faccio veloce raga perché purtroppo eh vedi ok raga siamo di nuovo dal punto di prima mamma mia raga l'ho vista brutta eh l'ho vista brutta ragazzi guardate sto sto pezzo qua che bello che è bellissimo guardate che figo che figo bellissimo questi saltini così guarda ok raga praticamente fino a qua l'ho fatto io da qua in poi l'ha fatto Lorenzo Mileto che ha detto mettiamo di pezzi qua che piacerò molto al suino adesso ci siamo incastrati dai 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 che ce la fai grande grande andiamo andiamo toni andiamo siamo primi è caduto Rudy è caduto è caduto mamma mia ok andiamo 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 toni no non posso perdere nella mia gara raga non posso perdere nella mia gara assolutamente non è possibile ok saliamo su grande toni come direzione oh oh no 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 non mi si ok raga sali su toni vai 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 veloce 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 vai toni grande prendi il check ma guarda te ok raga ok raga andiamo al traguardo e concludiamo in prima posizione raga mamma mia mamma mia, che sofferenza raga, comunque è stata la mia prima gara parkour, io gare parkour non ne ho mai giocate, non quasi, non le ho mai giocate, guardate ragazzi il cagnolino che si suicida, vediamo Rudy dov'è, vediamo, vediamo, comunque, ah ecco, eravamo dietro di me, vedi, tutti qua sono bloccati, comunque, anche a me mi ha trollato un paio di volte lì, comunque raga, la mia prima gara che ho creato, la mia prima gara che faccio, che porto anche sul canale, comunque, niente, se vi è piaciuto questo video, se vi è piaciuta questa gara parkour creata da Tony Amsic, lasciate un like, iscrivetevi, passate dal canale Telegram che trovate il link in descrizione, e seguitemi su Instagram, e niente raga, che dire, bella a tutti dal vostro Tony Amsic, 17, bella raga!